Buongiorno a tutti, vedo che siete moltissimi, per noi è una gratificazione, in modo particolare è una gratificazione per l'equipe della società, che ha lavorato intensamente con passione per la riuscita dell'evento. Vi porto, come diceva poc'anzi Giulia, il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, impossibilitato a intervenire, ha voluto riceverci l'altro giorno al Quirinale ed ha avuto per la società, ma soprattutto per le donne e per gli uomini che ci lavorano, parole di alogio, parole di complimenti. Ringrazio anche il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ieri mi ha comunicato l'impossibilità, ma ha fatto il possibile per essere qui con noi, che comunque ci ha gratificato di un bellissimo messaggio video, pieno di calore e pieno di complimenti per la nostra società. Lo stesso dicasi per il Presidente del Senato, la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, della quale Giulia ha poc'anzi letto un bel messaggio di saluto. Ringrazio tutti i rappresentanti delle istituzioni, il Commissario del Governo di Trento, il Prefetto Sandro Lombardi, per il splendido angelizzo di saluto e per le congratulazioni che ha fatto la società, il Prefetto di Bolzano, o meglio il Commissario di Bolzano, il Prefetto Vito Cosumano, il Prefetto Roberto Sgalla, che come è stato ricordato poc'anzi dal Prefetto Lombardi, è anche Direttore Centrale della Polizia di Stato e salutando lui saluto tutta la Polizia di Stato. Saluto anche il Presidente del Tribunale di Bolzano, la Dottoressa Elsa Vesco, il Presidente del Tribunale di Rovereto, Giulio Adilardi, che ci raggiungerà fra poco, i Procuratori della Repubblica di Bolzano, il Dottor Sandro Raimondi, quello di Trento, il Dottor Giancarlo Bramante e quello di Rovereto, Aldo Cenentano. Nonché il Generale Ugo Cantoni, comandante della Regione Trentino Alto Adige, e quindi salutando lui tutti i carabinieri, il Generale Ivano Maccani, comandante della Guardia di Finanza del Trentino Alto Adige, e salutando lui, salutando tutti i finanzieri presenti, i parlamentari, gli ex parlamentari, tantissimi sono amici, i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, gli ordini professionali che hanno voluto accreditare l'evento come formazione, le associazioni di categoria, gli amici delle altre 26 concessionari autostradali e Martir Kiermaier di Asfinag, che gestisce A23, cioè l'autostrada che dal Brennero poi ci porta a Innsbruck, le associazioni di volontariato che costantemente collaborano con noi, i nostri dipendenti di oggi e di ieri, perché la festa è vostra e soprattutto vostra. Un grazie particolare a Monsignor Luigi Bressan, al Civesco e Merito di Trento. Veramente un grazie di cuore a tutti voi. E un grazie anche evidentemente al Presidente Compacer, ma in modo particolare al Presidente Fugati, che è qui con noi e che ci accompagnerà per tutta la giornata nei nostri lavori. L'autostrada del Brennero rappresenta oggi nel panorama europeo un'infrastruttura di assoluta eccellenza. 73 milioni di veicoli sono transitati sulla nostra tratta nel 2018. Più di 11 milioni hanno attraversato il Brennero usando la 22, il corridoio autostradale, come collegamento con l'Europa. Ogni anno oltre 35 milioni di tonnellate di merce da e per l'Italia attraversano il Brennero. L'incessante cura del modernamento tecnologico, unito alla rigorosa attenzione sul fronte delle manutenzioni e delle coraggiosi politiche adottate, il concerto con la Polizia di Stato in materia di divieto di sorpasso ed altro, ne fanno un'autostrada efficiente e sicura. Ne parlava poc'anzi anche il Presidente Palenzona. I dati sull'incidentalità sono di questo oggettivo testimoni. Il fermo impegno nel campo della tutela ambientale e paesaggistica ha permesso e ci permette di godere dei frutti della modernità senza farne pagare il conto a un territorio che vive anche della bellezza del suo paesaggio. La costante oculatezza nella gestione economica è stata tale da poter garantire anche in futuro agli utenti e ai territori del Paese un'infrastruttura di primo livello. Oggi, sul fronte dell'alimentazione elettrica di quella di idrogeno, lo vedremo poi durante la nostra giornata, l'autostrada del Brenno riveste un ruolo di protagonista in Italia e in Europa. A22, insomma, è da tempo un'arteria vitale per la mobilità nazionale ed europea, una realtà che dobbiamo alla brillante intuizione e alla tenace determinazione degli uomini che quasi 70 anni fa in un'Italia che stava appena riprendendosi dal secondo conflitto mondiale capirono prima degli altri due cose. La prima, la vitale necessità per il Paese di collegare la sua costituenda rete autostradale con il resto di Europa. La seconda, la strategica opportunità per i territori attraversati dalla nuova arteria di esserne e rimanerne protagonisti grazie al controllo esercitato sulla società dai propri enti locali. Lo ricordava poc'anzi anche il Presidente Fugatti. E grazie a persone del calibro e della tempra di Tullio Dorizzi, allora Presidente della Regione, Donato Turrini, il suo assessore, Guido De Unterrichter, Lino e Bruno Gentilini e Walter von Walter, se oggi Autostrada del Brennero può vantare di essere una società a controllo pubblico, territoriale, con un'efficienza almeno pari a quella che potrebbe garantire un privato. Sono anni che ho l'onore di occuparmi della cosa pubblica. Tuttavia, da quando mi è stato concesso il privilegio della presidenza di Autostrada del Brennero, ho conosciuto una storia, quella della società, che non credo sia retorico definire a tratti eroica. Nei primi anni 50 i territori, che vediamo oggi così economicamente, socialmente evoluti, erano diversi. Fu in quella realtà che appare distanti anni luci, ha nel luce che si fece strada l'idea di realizzare per l'Italia un vero e proprio ponte per l'Europa. La scintilla, come ci dice Donato Turrini nel suo bel libro del 1984, che noi gli abbiamo rieditato in occasione del sessantesimo, l'offrì, dice Turrini, anche il turismo. Lungo lo stretto valico del Brennero, che nei secoli aveva rappresentato un'ardua sfida per eserciti e imperatori, i viaggiatori del nord Europa avevano ricominciato a scendere per visitare questa nostra terra straordinaria, dove i ghiacciai e l'olivo convivono a pochi chilometri di distanza. Il presidente della regione Trentino Alto Adi del Sud Tirol, Tullio Dorissi, già nel 1952, comprese, sono parole sue, che era indispensabile migliorare radicalmente la viabilità. Il suo assessore Donato Turrini fu incaricato di convincere il ministro della Repubblica d'allora, Salvatore Aldisio, e i tecnici dell'ANAS, della necessità di realizzare un'autostrada del Brennero. La risposta nel marzo del 1953 non lasciava molte speranze. Per il governo un miglioramento della Statale 12 era sufficiente, di autostrada si sarebbe riparlato forse più avanti. La legge Romita del 1955, che difeniva la futura ossatura della rete autostradale nazionale, non prevedeva alcuna autostrada del Brennero. Scriveva Turrini a tal proposito, senza tenere presente che questa rete interna mancava di una fonte fondamentale di alimentazione se non veniva allacciata all'Europa centrale attraverso le Alpi. Questa fu la prima grande intuizione. In un'Europa che si stava promettendo di diventare unita, una rete autostradale interna, anche eccellente, sarebbe stata inutile se non connessa al resto del continente. I Digneghi comunque non intaccarono la volontà della Giunta regionale, né mai passò l'idea di rinviare il progetto a un incerto futuro. Quando lo Stato prometteva di occuparsene, molto tardi semmai, si sondò da subito persino la possibilità che fosse la Regione Trentino Alto Adige-Suttirol a realizzare direttamente l'opera. I margini legali c'erano, le risorse finanziarie no. Ma si andò avanti. Nel 1957 la Regione Trentino Alto Adige-Suttirol istituì il Comitato Piani e l'ingegnere Deunte Richter fu incaricato di studiare il tracciato dell'autostrada. Sempre più fitti divennero i contatti con gli enti locali e le Camere di Commercio di Verona, Mantua, Reggio Emilia e Modena che risposero da subito con entusiasmo dimostrando di avere immediatamente colto l'opportunità di sviluppo che si profilava per i propri territori. Si arrivò così alla data che celebriamo oggi, il 20 febbraio 59, allora era un venerdì, quando presso la Camera di Commercio di Trento fu fondata la società. Una data storica oggi, allora quasi solamente un esercizio di ostinata volontà. Quattro mesi dopo, il 13 giugno 59, l'allora ministro Giuseppe Tonni negò nuovamente alla neonata società la concessione di costruzione e esercizio dell'autostrada del Brennero precisando, nel suo digniego, che altre erano in quel momento le opere giudicate prioritarie. Turrini tornò alla carica appena sei mesi dopo, a dicembre, chiedendo in luogo del contributo statale 70 anni di concessione. Ottenne però un netto rifiuto. Nel frattempo, quasi ignorando le avversità, l'incarico per la progettazione di Massima era già stato affidato agli ingegneri Guido Dante Richter e Bruno Gentilini e sempre più stringenti si erano fatti, anche grazie all'aiuto del Presidente della Camera di Commercio di Bolzano, Walter von Walter, i contatti con le autorità austriache da subito interessate al progetto. La breccia si aprì nel 1961 con la legge Zaccanini. La Brennero venne finalmente considerata un'opera da realizzare, ma ancora una volta i protagonisti di allora dovettero combattere contro diverse avversità. La realizzazione del tratto tra Verona e Modena veniva rinviata un secondo tempo, pesando le pressioni di Bologna per il tracciato alternativo che la vedesse come meta finale. Le caratteristiche tecniche previste relegavano l'arteria a un'autostrada di tipo C, di fatto una superstrada. Infine, a realizzare l'opera sarebbe stata l'Iri. Per allora non era ancora stata definitamente sciolta un'altra riserva, quella sulla variante di Giovo, che avrebbe fatto passare l'autostrada da Merano attraverso la Valpa Siria, ipotesi poi accantonata per ragioni tecniche. L'impegno finanziario che si profilava era enorme e anche tra i soci vi fu chi sperò nell'intervento dell'Iri. Non così il socio di maggioranza, la regione Trentino-Altoadisi e Sud Tirol. Chiarissime in proposito le parole di Donato Turrini. Solo ipotizzare, diceva, un rovesciamento dell'impostazione autonomistica di una regione come la nostra avrebbe significato ribaltare impostazioni ormai generalmente acquisite. Non andava inoltre dimenticato che autostrada poteva diventare per gli enti regionali un importante strumento per l'equilibrio territoriale e lo sviluppo economico-sociale. Sarebbe stata quindi miopia valutare il problema dell'autostrada del Brennero su prospessioni a breve termine. Una sua irizzazione avrebbe significato una perdita da parte degli enti regionali del controllo di un'importantissima struttura, favorendo situazioni di tipo burocratico, centralizzato, in contrasto con la filosofia pluralistica che è la base degli istituti autonomistici. Le parole di Turrini valevano allora, ma come è stato detto già, sono altrettanto importanti ora. Nella storia dell'autostrada del Brennero i territori attraversati dal corridoio autostradale possono leggere una metafora della propria stessa storia. Quella di una terra povera che trova nella propria comune laboriosità e nella comune difesa delle proprie prerogative di autogoverno la leva per costruire equa prosperità e felice convivenza. In quell'ottica non è difficile capire che con l'autostrada non si realizzò solo una striscia d'asfalto in grado di spostare persone e merci, ma un ponte che, mentre univa l'Italia all'Europa, univa anche una terra bilingue che poco più di 40 anni prima aveva conosciuto l'orrore infinito di una guerra fraticida. Le ultime perplessità le tolse Liri stessa. Per bocca del suo presidente, infatti, nell'incontro del 30 gennaio del 1962, Giuseppe Petrilli, allora presidente dell'IRI, chiarì che la società statale non avrebbe cominciato i lavori prima del 1970. I dubbi di alcuni soci furono fugati. Il 17 marzo del 1962 il Consiglio di amministrazione della società deliberò di procedere autonomamente. Nel frattempo, il 25 gennaio del 1962 l'ANAS aveva approvato il progetto del tronco Brennero-Verona. Il governo concesse a titolo di contributo solo il 3,25% per la tratta Brennero-Verona e un simbolico 0,5% per il secondo tronco, quello da Verona a Modena, che ricevette a sua volta il via libera solo grazie al diretto intervento del presidente del Consiglio dell'epoca, Amintore Fanfani. Finalmente, il 29 gennaio del 1963 fu sottoscritta la Convenzione per la costruzione e l'esercizio del tronco Brennero-Verona. Il 15 maggio del 1963 fu la volta del tronco Verona-Modena. La strada era tracciata, gli ostacoli da superare ancora molti ed ardui. Uno su tutti, le risorse finanziarie. Dove trovare almeno 120 miliardi di lire, vista la deludente compartecipazione dello Stato? Il lavoro fu enorme, nonostante il piano finanziario corroborato dallo studio del professor Vittorio Zignoli dimostrasse che i ricavi sarebbero stati tali da coprire in mutui, manutenzione e gestione prima del termine della concessione. 85 miliardi arrivarono da Veneto Fondiario, 45 miliardi dal Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche e 15 miliardi a testimonianza del respiro europeo del progetto dalla Banca Europea per gli Investimenti, conosciuta come BEI. Intanto, il 26 marzo del 1964, prima ancora di avere certezza sulla concessione dei mutui, la realizzazione dei ponti di Vadena e di Zambana veniva assegnata all'impresa Mantovani di Bologna, quella del viadotto dei Vodi dove fu materialmente posta la prima pietra all'impresa del Favero. Un azzardo, un azzardo calcolato che aveva un solo obiettivo, fare presto ma non fare male. All'esproprio, ad esempio, si preferì sempre l'acquisto al libero mercato. Alle legittime preoccupazioni della provincia di Bolzano in materia di impatto ambientale si rispose con l'affido di uno studio al celebre paesaggista Piero Porcinai e grazie a lui, ad esempio, se per i Guerreil si scelse già allora l'acciaio Corten materiale all'epoca quasi sconosciuto. Gli approfondimenti e le migliorie apportate al progetto iniziale avevano fatto crescere i costi. Ad inizio anni 70 la svalutazione della Lira, se da un lato aiutava a pagare i mutui assunti in valuta nazionale, dall'altro rappresentò un vero e proprio macigno per il saldo dei debiti in marchi nel frattempo contratti. A tutto ciò si aggiunse nel settembre del 1973 e chi ha gli anni come il sottoscritto qualche anno in più se lo ricorda, l'abrogazione del regime fiscale agevolato per il statore autostradale riconosciuto nel 61. Anche il granitico Turrini temette di non farcela. L'eventualità del fallimento dell'impresa si palesò chiaramente in seno a un consiglio di amministrazione, abbiamo un verbale veramente illuminante sulla questione. I lavori però non si fermarono mai, con un ritmo che ancora oggi sarebbe difficile replicare. I lotti venivano assegnati e terminati uno dopo l'altro. Superati i danni provocati dall'alluvione del 1966, il 21 dicembre del 1968 sotto un'inclementa nevicata furono aperti al traffico i primi 50 km che separavano Bolzano da Trento. Eviterò di annoiarvi con la cronistoria dell'affido degli appalti e delle singole tratte, anche se le difficoltà tecniche incontrate e superate, ad esempio nella realizzazione del viadotto di Colla Isarco, meriterebbero da sole un intero capitolo. Da ingegnere, osserva il figlio di Lino Gentilini, Jacopo, progettare a loro un ponte come Colla Isarco era navigare in mare aperto, alla ricerca del nuovo mondo. Oggi basta applicare un po' di normative, un po' come paragonare un astrolabio a un GPS. Mi limito a segnalarvi che il 5 aprile del 1971 l'Italia era finalmente collegata all'Austria, con il tratto autostradale. L'11 aprile del 74 l'opera veniva terminata. Grazie alla Brennero il nord della Norvegia era collegato con il sud Italia, come previsto nel 1950 dalla Convenzione di Ginevra. Nonostante le enormi difficoltà tecniche sostenute nel tratto tra Bolzano e il Brennero, alla fine il costo medio di chilometro fu di 780 milioni di lire, 243 miliardi il costo complessivo, ben inferiori a quelle sostenute per opere consimile nella stessa epoca. La revisione delle tariffe del 1978 fece nuovamente respirare la società che nel 1984, a 10 anni dal termine dei lavori, poteva già vantare il primo bilancio in pareggio, ben prima di quanto inizialmente previsto nel piano economico-finanziario. Questa storia di successo ha avuto un prezzo non quantificabile, quello delle 36 persone che persero la vita lavorando per le ditte appaltatrici, per realizzare un'importante tappa dell'unificazione europea, un valore supremo per i nostri padri costituenti di cui purtroppo si sta perdendo il senso. Per ricordare l'involontario e sommo sacrificio di questi lavoratori, lo ricordava poc'anzi sia il commissario del governo Lombardi che il presidente Fugatti, cinque giorni fa abbiamo posto una targa all'ingresso della sede della società Imperatura Memoria del loro contributo a questo grande sogno europeo. benedetta dall'Arcivesco di Trento, Monsignor Lauro Tisi, che nuovamente ringrazio. Oggi, a distanza di 60 anni, la società Autostrada del Brennero mostra di non aver perso quello sguardo lungo che ebbero i suoi padri. Loro intuirono ancora negli anni 50 la necessità dell'autostrada. Gli amministratori degli anni 90 quello di contribuire alla realizzazione del tunnel ferroviario del Brennero e di investire per tempo nell'intermodalità e nella logistica. a chi nelle scorse settimane ci ha attaccato perché a fronte di fenomeni climatici eccezionali e di condizioni da noi non controllabili non saremo stati in grado di gestire al meglio la tratta. Ricordo solo questo. Sono più di vent'anni che siamo impegnati nel rafforzamento della ferrovia perché più da vent'anni denunciamo come il traffico merci che viaggia su gomma sia diventato eccessivo per il valico del Brennero. Da molti rappresentanti dell'istituzione al di qua e di là del confine siamo stati ascoltati, da altri purtroppo no. Nessuna società concessionaria per azioni finanzia la propria concorrenza. Noi lo possiamo fare perché i nostri principali azionisti sono i cittadini ed è per loro che dal 98 ad oggi sono stati accantonati oltre 700 milioni di euro destinati al tunnel ferroviario del Brennero e alle tratte d'accesso. Se l'obiettivo di questa società fosse stato quello di distribuire dividendi, come si è voluto talvolta lasciare intendere, non avremmo reinvestito in manutenzione con una media di 48 milioni di euro all'anno, non avremmo aiutato i territori colpiti da calamità naturali, non avremmo sostenuto i comuni a tutelare il proprio patrimonio storico, non avremmo investito, come si diceva, nella ferrovia e nell'intermodalità. Nonostante tutto questo stiamo ancora discutendo della nuova concessione di Autostrada del Brennero, un percorso a ostacoli, faticoso, difficile, ma da noi affrontato con i nostri soci, memori della difficoltà superata dai fondatori della società. Non saremmo degni eredi dei loro sforzi e dei loro sacrifici se oggi cedessimo di fronte ad avversità ben più modeste di quelle che loro incontrarono, perché Autostrada del Brennero non è uno striscio d'asfalto. La società Autostrada del Brennero è stata e, e auspichiamo possa continuare ad essere, una società della comunità al servizio dell'Italia e dell'Europa. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie.